Il mercato del Pescara, notizia in uscita ufficiale proprio dal pomeriggio di oggi perché Gennaro Borrelli è stato ceduto a titolo definitivo al Frosinone. Ritrova la B, il classe 2000, contratto quadriennale sull'attaccante originario di Campobasso, erano in pressing Vicenza e Ternana ma alla fine ha scelto il club Ciociaro tra campionato primavera Under 17, prima squadra Borrelli ha collezionato con la maglia del Delfino 96 presenze, 36 gol realizzati, 24 nel campionato primavera, 11 nell'Under 17 e 1 in prima squadra il 2 novembre 2019 di testa che permise al Pescara di Zauri di sbloccare il punteggio con il Pisa, partita finita 3-0 per i Biancazzurri e lanciarlo appunto Luciano Zauri con cui la stagione precedente Borrelli aveva vinto il campionato primavera 2 segnando 18 reti capocannoniere del torneo. Quindi i prestiti a Cosenza in via, la Juve Stabia in Serie C e l'ultima stagione è stata a Monopoli, prima parte praticamente non ha mai giocato per un infortunio da gennaio a giugno a fine stagione, playoff compresi, 20 presenze e 9 gol con il tecnico del Monopoli, attuale allenatore del Pescara appunto Alberto Colombo. Da oggi Gennaro Borrelli dunque 22 anni compiuti a marzo, è un nuovo calciatore del Frosinone, la formula del trasferimento prestito con obbligo di riscatto a febbraio 2023 di fatto a titolo definitivo. Le altre trattative, obiettivo trequartista cominciamo da Schenetti che è svincolato, classe 91 ex Entella e Cittadella, in realtà non è un obiettivo del Pescara. Complicato l'ingaggio di Curcio, il trequartista del Foggia, 29 gol nelle ultime due stagioni, classe 90, ancora un anno di contratto con il club rossonero e potrebbe rinnovare. E poi il 33enne Pasquale Maiorino richiesto da Alberto Colombo che lo ha allenato due stagioni orsono nella Virtus Francavilla. Ebbene c'è stata una nuova offerta del Pescara per un biennale, 90 mila euro il primo anno, 60 al secondo più bonus, ma il procuratore del trequartista Giovanni Tateo non ha ancora risposto, anzi sembra Maiorino in procinto di rinnovare con la Virtus Francavilla. Per quanto riguarda invece i centrocampisti Crasia e Ghion bisognerà aspettare la prossima settimana. Tornando al trequartista, a questo punto Giacomo Manzari, classe 2000, è in vantaggio, sembra quantomeno in vantaggio, su Merola. Merola che si è distinto lo scorso anno a Foggia, il Foggia di Zeeman con 10 gol e 4 assist, classe 2000 anche egli, di proprietà dell'Empoli. Ebbene in vantaggio Manzari che è di proprietà del Sassuolo ma in prestito biennale al Frosinone. Lo scorso anno soltanto 12 presenze in B, una da titolare due anni fa, invece in evidenza nella Carrarese 29 presenze e 3 gol. Il club Ciociaro sembra intenzionato a rinunciare al secondo anno di prestito dal Sassuolo. Staremo a vedere in sintesi all'appello, manca un difensore centrale, mancano tre centrocampisti, manca anche un trequartista e dopo la cessione di oggi di Borrelli al Frosinone anche una punta.